chiamano carceri. Ho preso persone che sono in condizione di corona, cioè che hanno violato le regole della sorveglianza che gli erano stati date. Nunzia De Cirolamo. Un attimo. Ma Massimo, guarda, chi ha un ruolo pubblico, chi fa il conduttore, chi fa il... Eh, grazie, grazie. Purtroppo torno su un tema che mi sta molto a cuore che è la giustizia ed è per questo che ti dico che chi come noi ha un ruolo giornalistico da conduttore, da personaggio pubblico, non può nel valutare il caso di corona utilizzare la morale. Non può fare l'avvocato, perché l'avvocato corona già ce l'ha e lo rappresenta bene. Non può fare il magistrato, non possiamo fare gli psichiatri perché non abbiamo la competenza. Abbiamo il dovere, da persone che vivono in questo paese, di vedere, di analizzare quanto corona e tante persone trasparenti come corona, in questo paese scoprono la più grande manifestazione dell'esistenza dello Stato che è la privazione della libertà. Visto che Luca ha letto delle cose che riguardano reati, io voglio leggervi una cosa. Penso che sia opportuno una seria riflessione sul sistema sanzionatorio penale che, assecondando una linea di pensiero che sempre più si sta facendo strada a livello internazionale, ci orienti verso il superamento dell'idea del carcere come unica effettiva risposta al reato. La certezza della pena non è la certezza del carcere. Il carcere deve essere l'estrema razio. Non sono io a dirlo, è il nuovo ministro della giustizia. Vogliamo ragionare su questo? Vogliamo ragionare su questo? Parliamo di corona perché sappiamo di corona. Corona è una persona malata che è nel carcere, non sarà riabilitata perché tutti siamo consapevoli.